E vediamo, l'intera piazza con gli occhi pintati su Stefano Mammuccini. Secondi che sembrano interminabili. Si allontana Luca Veneri, attenzione, attenzione! Incredibile, incredibile. Eliminato, eliminato. Una partenza completamente fuori dalla lizza con enormi problemi per il cavallo di Mammuccini. Sta succedendo di tutto questa sera, incredibile. Sergio, ripetiamo ai nostri telespettatori che in particolare per quelli che non sono di Arezzo, cosa prevede il regolamento in questi casi? In questi casi ormai è stato dato il via da parte del maestro di campo. Non ha superato, è uscito prima, poi è rientrato nella lista, quindi 0, 0 punti, è stato eliminato. Tra l'altro ha rischiato anche di scivolare nel pavimento di Piazza Grande, vedete, ecco il replay. Eh sì, 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 sì. Sì, quindi è perché gli ha dato le noie alle bandiere. La linea, però è entrato in glizza. Rivediamo in questo momento la carriera di Stefano Mammuccini. Lui è uscito, è come se non avesse, al limite è come se non avesse corso, però è rientrato. È il primo caso che si verifica, anche io non saprei. Sentiamo l'Araldo, il risponso da parte di Gianfrancesco Chierico. Il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha corso carriera nulla. Carriera nulla.